Maria De Filippi sempre in bicicletta? Sempre in bicicletta Perché sei a piedi, sei stanco Adesso la stai portando? Mi tocca andare in bicicletta, devo dimagrire un pochettino Perché Allora Se te ci fai caso dai postini Non ci sta nessuno Che sono tutti Grossi Ma tu lo fai per i soldi O per la fame? La fame, proprio Io ti ho detto già in altri tuoi video Io sono Innamorato Pure se Maria De Filippi ancora ad oggi Non mi ha risposto A me mi piace lo stesso Perché mi piace Tu direi Che ti piace Maria De Filippi se ancora non ti ha chiamato Ma se Maria De Filippi Sai a me cosa mi piace? Mi piace La sua Il suo sguardo Capito? Così Imitazione di Maria De Filippi Insomma Maria De Filippi non è che è proprio Però appena mi chiama Uno deve pensare Non è appena mi chiama Me lo auguro Mi chiamerà Spero Me lo auguro Che mi chiama Però se mi chiama Paolo Io ti proporrò a te Ovviamente dietro ogni postino C'è sta una delle case Ovviamente io sono Paolo Bonolis A Paolo A Paolo Tu sei Laurenti Vuoi bene Laurenti Lo so Mi fai come era quella Quell'animale Quegli animali strani Che fa La Laurenti A Bavosa A Bavosa Ditor Pignatara Come fai No non la posso fare io Perché io ho più cellulite Dei Laurenti Capito? Luca Laurenti Senti Ma tu squadra antimafia Lo stai vedendo? E come no Ti piace? Prima puntata Però non mi piace Ti hai vista già Prima puntata De squadra antimafia E' finita male Ma hanno subito Ammazzato pure a me Ti è piaciuta? La prima puntata Però mi hanno ammazzato Nel cuore Capito? Ma tu lo sai che bocci Ti do un'anticipazione Se dimette Ah si Che Lascia no? L'anno prossimo A squadra antimafia Metti pausa C'è la pausa C'è il video Ciao